Gli alunni possono proprio toccare con mano le attività che le istituzioni presenti fanno vedere. Forza dell'ordine, associazioni di volontariato, protezione civile, quanti sono le realtà coinvolte? Sì, abbiamo la polizia di Stato, la polizia stradale, la guardia di finanza, poi la parte medica, quindi il 118, protezione civile, croce rossa, croce verde. Poi abbiamo anche le unità cinofile, una dimostrazione che piace tantissimo ai bambini. Quali le classi coinvolte? Sono coinvolte le classi quinti elementari, circolo 1, circolo 2 e diverse scuole private. È un momento di dare un ponte di comunicazione fra gli alunni, cioè tra i bambini che poi diventeranno adulti, e le istituzioni. Quindi è un momento di sensibilizzare i bimbi al rispetto della legalità, divertendosi. Tra le realtà coinvolte nell'iniziativa della FIDAPA, anche i medici del 118 sono in piazza con una unità mobile. Cosa state facendo? Stiamo insegnando ai ragazzi le manovre di rinimazione base, insomma abbiamo tre postazioni. In una spieghiamo come funziona il numero unico dell'emergenza, che è il numero unico del 112, che è stato istituito da poco, e quindi bisogna spiegare ai ragazzi come comportarsi. Nell'altra postazione abbiamo i principi di rinimazione cardiopolmonare con il manichino, gli insegniamo come far riconoscere se un paziente ha arresto cardiaco e cosa fare, quindi massaggio cardiaco e controllare la respirazione. E in un'altra postazione abbiamo i presidi per l'immobilizzazione del paziente traumatizzato. È importante, anche se così giovani, far sapere loro cosa bisogna fare in caso di emergenza? Certo, è importantissimo perché loro sono i primi che possono intervenire, i primi che possono già salvare delle vite. Insomma, il tempo è tutto nell'emergenza sanitaria, quindi prima giamo e prima abbiamo dei risultati.